Sport di calcio di Serie C e della partita Pescara-Cerignola in programma domani. Si è da poco conclusa la conferenza stampa dell'allenatore bianca-azzurro Alberto Colombo. Per noi c'era Enrico Giancarli, ci colleghiamo in diretta con lui. Buon pomeriggio Enrico, quali sono le ultime novità? Cosa ha detto Colombo? Ciao Gigliola, buon pomeriggio, un saluto a te, un saluto a tutti gli amici che ci guardano in diretta al TG8. Alberto Colombo ha parlato mezz'ora fa circa qui all'EKK Hotel in vista della partita di domani, fischio di inizio alle 14.30, come dicevi giustamente tu contro il Cerignola. Subito con una buona notizia, perché De Marino questa mattina ha provato, ha detto che ha ancora un po' di dolore e valuterà tra questa sera, ma soprattutto domani, prima della partita, se impiegarlo dall'inizio o meno. Resta comunque una opzione in più, un reparto arretrato che è già in emergenza per le squalifiche di Brosco e di Milano. Giocherà sicuramente Boben al posto di Riccardo Brosco, mentre per il ruolo di terzino-sinistro c'è questa nuova opzione, De Marino, che sembrava tramontata dopo l'infortunio nell'under di rimediato contro l'under 17, ma questa mattina ha provato, ma si valutare domani. Oppure l'alternativa è Crescenzi. Mediana non rinuncia a Luca Mora, il tecnico Biancazzurro, che sarà in campo con Palmiero e con Aloy. In attacco molto dipenderà, a fianco ai confermati, le scan e cupone da chi sarà il terzino-sinistro. Questo è più o meno in sintesi quello che ha detto il tecnico Biancazzurro, che ha anche parlato un po' di quella che è stata la partita con il Giuliano, a mente fredda e poi alcune analisi sull'esterno offensivo della Pescara e sul prossimo avversario che è il Cerignola. Partiamo dalla partita di martedì con le parole del tecnico Colombo e poi l'analisi dell'avversario. Il rammarico è grandissimo, è fuori discussione quello, però anche lì c'è una consapevolezza di quanto possiamo fare bene, perché lo abbiamo dimostrato in principal modo in una situazione di estrema difficoltà. Un morale buono, ma che non deve sfociare nel calo di attenzioni, perché perdere qualcosa sotto questo aspetto motivazionale e attentivo in una categoria del genere contro avversari sempre ostici qualunque nome porti sarebbe veramente un peccato che pagheresti a caro prezzo. Faccio due domande. La prima sul reparto offensivo. Le certezze a questo punto, le scelte di questo inizio campionato l'hanno dimostrato, sono le scan e il cupone, c'è sempre il solito pallottaggio sulla corsia di sinistra. Si tornerà con Dendemona che è favorito rispetto a Colai e De Sogus, se può dircelo, e poi un'analisi tattica del Cerignola. Sì, allora, come dicevo, partiamo dagli avversari. È una squadra compatta che può adottare almeno due sistemi di gioco, con la capacità di chiudere le linee di gioco degli avversari nella zona centrale ed è brava poi, nelle transizioni, a sfruttare quelle che sono le abilità individuali degli esterni, sia alti che bassi. E comunque ha dei giocatori anche nella zona nevralgica del campo, abili nel ribaltare velocemente l'azione. Noi, dal punto di vista offensivo, abbiamo diverse soluzioni, quindi è riduttivo magari parlare di un dubbio solo alla nostra sinistra. È chiaro che i numeri e soprattutto le prestazioni stanno parlando abbastanza chiaro. L'Escano, oltre ad essere un terminale offensivo importante, diventa anche un regista capace di mandare i compagni alla conclusione. Cupone sia per generosità sia per caratteristiche, è un giocatore che tiene sempre in allarme le difese avversarie. E qui poi si innesca appunto l'esterno di sinistra che io credo possa essere anche scelto in base alle caratteristiche di chi gli sta alle spalle, quindi del terzino. Se avessimo un giocatore magari un po' più di spinta e anche con una condizione fisica ottimale, un delle monache o un colai che possano creare situazioni di pericolo negli uno contro uno, può essere una soluzione. Con un giocatore magari con una condizione inferiore, quindi un po' più di posizione, allora un Desogus che ha quella capacità di avere un metraggio maggiore con una progressione migliore, allora potrebbe dare una mano ad abbassarsi e ripartire. Queste insomma sono le valutazioni che potrei fare in funzione di domani. Enrico, che partita sarà alla luce anche di quanto ha detto l'allenatore Colombo? Secondo me molto difficile Gigliola perché Colombo ha ribadito un'altra volta anche in conferenza stampa la questione motivazione, guai ad abbassare la tensione, guai ad avere cali di concentrazione perché tutti gli avversari contro il Pescara giocheranno al 100%, abbassare un po' la tensione si è visto con il Monterosi può essere grave, gravissimo per il Pescara. Sarà una partita molto difficile perché non ci dimentichiamo Gigliola che il Cerignola è l'unica squadra che ha bloccato fino a questo momento il Catanzaro con quel pareggio 2-2 che la formazione di Vivarini ha ciuffato proprio nei secondi finali dopo che era stato sotto 2-1 in pieno recupero e quindi è una squadra davvero temibile la formazione ospite. L'appuntamento è domani alle 14.30 con questo dubbio di formazione legato un po' alla catena di sinistra se dovesse esserci De Marino o meno lo scopriremo domani perché il tecnico Biancazzurro ha detto in conferenza che comunque ancora un po' di dolore lo aveva e valuterà domani che è il giorno della partita. Appuntamento a domani alle 14.30 Stadio Adriatico Pescara-Cerignola. A te Gigliola è tutto.